Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta ieri sera sulla città di Brindisi, accompagnata da un forte vento che ha reso tutto ancora più difficile. In aeroporto i voli provenienti da Zurigo e da Bergamo sono stati dirottati a Bari, mentre quello proveniente da Palermo è atterrato con notevole ritardo. In città invece il primo campanello di allarme come al solito è suonato nei pressi del canale Patrick. Il rischio di esondazione ha determinato la chiusura della strada che costeggia proprio il canale e che rappresenta un collegamento cittadino estremamente importante. Gravi difficoltà anche per chi doveva recarsi nel rione Casale visto che il lungomare Amerigo Vespucci e via Cicirello sono diventati intransitabili sia per gli allagamenti della sede stradale che per la caduta di rame di alberi. Inondati dall'acqua anche i due sottopassaggi pedonali che conducono nella stazione ferroviaria, mentre nel rione Sant'Elia si è registrato il solito allagamento in viale Caravaggio ad angolo con via Martini. Gravi difficoltà di circolazione anche nel sottopasso di via Materdomini, via Torpisana e in altre strade della periferia, mentre la polizia locale è stata costretta a chiudere la strada dei Pittachi. In via provinciale San Vito sono saltati numerosi tombini, ovviamente gran lavoro per i vigili del fuoco che sono stati chiamati a intervenire sia per porre in salvo persone rimaste intrappolate in auto che per allagamenti di cantine e scantinati. A polizia locale e a protezione civile invece il compito di chiudere strade e prestare aiuto a chi si è trovato in maggiori difficoltà. Il fatto sconcertante è che tutti questi problemi si ripetono puntualmente ogni volta che sulla città si abbatte una bomba d'acqua, peraltro sempre più frequenti. Purtroppo però non si riesce a intervenire per tempo, sia con interventi strutturali che con semplici interventi di manutenzione ordinaria come il taglio delle canne nel canale Patri o la semplice pulizia delle caditoie in città.